Relativamente alla nostra attività giudizionale li trovate nella corposa relazione, che adesso spiegherò anche perché è corposa, appunto, è una cifra che indiscutica amministrazione. A questa cifra siamo arrivati mediante, come ho già spiegato, delle riforme strutturali della giustizia amministrativa, un linguaggio abbastanza tecnico, pariudato e che di conseguenza è rispetto alla nostra. C'era un meccanismo per cui si doveva cambiare forma, ovvero sia tutto quanto deciso dal distretto di Tretto rispetto a quello di Venezia. Per cui ragionevolmente, a seconda della lancia a favore del Foro Trindino, perché pur avendo girato un po' l'Italia, anche per un certo periodo di tempo a Roma e Consiglio di Stato, ho visto tante volte delle cause che vengono fatte in modo molto insensato, una certa nostra laboriosità, ma evidentemente tutto questo accade per via anche degli stessi numeri del contenzioso, che è molto basso giudice amministrativo. Qui questo non accade. Qui abbiamo dei legali, in cui all'ufficio del processo, dove fra l'altro agiscono in più delle volte effettivamente cause non temerarie, cause che...